Bentornati a Radio Design, sempre qui Nicola, ormai questa coppia consolidata è Alessia. Allora, oggi abbiamo un ospite veramente clamoroso, oserei dire, Alessia. Abbiamo con noi Giovanna Castiglioni, benvenuta. Ciao Giovanna. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, non ha bisogno di presentazioni, però comunque lo ricordiamo, tu sei la figlia di uno dei più grandi e celebri designer italiani, Achille, e quindi per noi è un onore averti qui. E in più tu gestisci anche la fondazione a lui dedicata. Quindi partiamo subito con la prima domanda. Parlaci un po' di questa fondazione e di che cosa si occupa. Sì, allora, tenete conto che la fondazione è in mano a due figli. Carlo Castiglioni, mio fratello, fa il medico, io ho fatto la geologa. E mi occupo ormai come voce narrante di questo posto, creando progetti all'interno della fondazione. La fondazione è in piazza Castello 27 a Milano, è aperta al pubblico, su prenotazione, ed è straordinario ricevere persone da tutto il mondo. Ho appena finito una visita guidata con dei norvegesi, architetti norvegesi, che non andavano più via, per cui rischiavo anche di arrivare in ritardo alla vostra posizione, per cui va bene così. Sono un'entusiasta, per cui la fondazione è aperta come uno strano museo. C'è un piccolo bassotto che vi accoglie e abbaia. Le sedie progettate da Topa sono a disposizione di tutti, le lampade anche, si possono accendere e spegnere. Si crea un'atmosfera subito, si cerca di creare un'atmosfera subito molto accogliente, come se foste a casa. E quindi è un museo molto particolare anche per me. Continuiamo a trovare sorprese ogni giorno. Quindi è bellissimo lavorare qua. Essere comunque la figlia di uno dei padri del design italiano deve essere comunque una bella sensazione, diciamo una sensazione particolare. Noi volevamo chiederti se ci puoi raccontare qualche aneddoto di quando eri piccina. Sì, sicuramente mi sento una privilegiata, perché comunque mi rendo conto solo adesso che lui era tanto famoso, mentre invece con me ha sempre giocato molto e non ha mai fatto pesare il fatto di essere comunque un personaggio così addentro al design. Proprio per questo a casa ho sempre fatto mille cose con lui, non mi ha mai fatto mancare la sua presenza come papà e quindi è anche questo che noi raccontiamo. Più che il genio, il maestro del grande design italiano, in realtà era una persona estremamente semplice. Basti pensare che la lampada gibigiana che io adoro è nata per non litigare di notte con la mia mamma perché lei leggeva fino a tardi e lui andava a letto presto. Quindi, per esempio, questa lampada nell'ottanta risolve un problema di copia classico in tutte le copie e dagli anni ottanta in poi io non le ho più sentite litigare di notte, quindi svegli la luce, accedi la luce, svegli la luce. Con la gibigiana bastava uno specchio, una fonte luminosa dal basso e lui riesce a portare questa luce convogliata sul libro senza disturbare il partner. Più semplice di così, incredibile. Il design e l'amore. Eh, infatti, è meraviglia. Eh, esatto, esatto, no? Poi, cos'è, San Valentino è alle porte. Eh, infatti. Sì, che ovviamente non è un… non abbiamo mai festeggiato nessuno di noi perché per noi tutti i giorni è amore verso il design e verso la vita in generale. Però, insomma, già che ci siamo è un'oppia ben risolta. Alessi, adesso sai cosa ti possono regalare? Sì, infatti, perché io ho proprio questo problema che la notte sto sveglia e invece il bianzato, no? Quindi, vedi, è perfetto. Vedi, è perfetto. Perfetto. Allora, la domanda successiva è, appunto, tuo padre giocava con te? Quanto ci giocava? E magari, mentre giocava con te, ti raccontava come produceva, come creava, progettava le cose? Ecco, in questo caso, in realtà, invece, lui andava avanti a giocare e non rompeva le scatole a noi dicendo, ma adesso giochiamo, facciamo un nuovo progetto. In realtà, mi sono resa conto io, lavorando ormai da 12 anni in fondazione, che lui ci ha sempre preso in giro perché giocando progettava. Quindi, a noi non ha tolto nulla, nel senso che poi, io essendo la più piccola, l'ultima, ha giocato veramente fino a 83 anni lui e i 30 anni miei. Io, infatti, non riesco a crescere perché è un continuo giocare ancora oggi. Cioè, era talmente curioso che qualsiasi gioco o stimolo che arrivasse da giochi intelligenti, oggetti intelligenti in giro, era veramente un continuo modo di trasportare l'oggetto trovato in progettazione per l'industria. Quindi, incredibile, veramente un uomo saordinario. Infatti, due lampade progettate da suo padre, infatti, sono proprio Giovi e Moni. dedicate a lei e a sua sorella. Quale valore affettivo ha tutto questo, quindi, per lei? Ma, anche qui, mi sono resa conto, poi, lavorando in studio, dovendo raccontare queste storie e condividerle con i visitatori che ci vengono a trovare da tutto il mondo, e mi sono resa conto che, in fondo, avere una lampada delicata non è poi così strano e nello stesso tempo così normale. Giovi è nata, tra l'altro, da un oggetto anonimo che dovete venire a scoprire in fondazione, quindi non vi dirò nulla, vi tengo in sospeso. Però, ecco, sicuramente questo era il suo modo di trasformare gli oggetti anonimi trovati in lampade, in tavoli, in sedie, eccetera. Quindi Giovi e Moni arrivano proprio da un gioco di luce che sono tutti e due molto solari. Moni è da soffitto, Giovi è da parete, ma, ahimè, Moni è in produzione e io no. Quindi dovete venire a vedermi di persona in Tiafacastello 27. Vedete voi, se avete voglia. Sei fuori produzione, questo giudice. Io sono fuori produzione, vedi un po'. Sono sempre stata fuori corso e fuori produzione. Pazienza. Allora, adesso abbiamo una domanda veramente piccante, devo dire. Hai mai comprato l'IKEA? Certamente. La mia prima vita con Sergio, anche lui geologo, è stata proprio di andare a pescare mobili dell'IKEA, ma perché lo stesso Achille amava recuperare mobili dell'IKEA per poter smontare e montare e capire come erano fatti. Quindi in realtà c'è molta analogia tra la progettazione dei Castiglioni, soprattutto negli anni 70, quando progetta i packaging anche delle lampade, perché in fondo il packaging di parentesi, faccio un esempio, del 1971 che è ancora in produzione, aveva un packaging, che oggi non è più prodotta così, è prodotta ma non è venduta col packaging, era fantastico perché ti portavi questo blister di plastica a casa, era trasparente, e ti montavi la lampada da solo. Quindi era un modo per entrare in contatto con l'ignoto fruitore che avrebbe usato l'oggetto, no? E quindi bellissimo, perché se ti monti le cose vuol dire che capisci come sono fatte. Quindi secondo me il concetto IKEA è straordinario. So che mi si apre una botola tutte le volte che si parla di IKEA in studio di Castiglioni, ma invece no, siamo ben contenti di parlarne. Bene, questa era la nostra domandona. Adesso invece ne arriva un'altra e appunto ti voglio chiedere quali oggetti ideati da tuo padre tu hai appunto nel tuo arredamento privato. Allora, tra l'altro sono proprio in fase di lavorazione, di ristrutturazione della casa storica dei miei genitori, dove io vivo e sono nata ed è nata anche la mia mamma lì, per cui mio papà ha ristrutturato questa casa negli anni 70 e intorno, mentre lo studio è pieno di oggetti, in casa ce n'erano molti meno. E quelli che c'erano i prototipi, per cui lui sperimentava, provava sui prototipi di casa, sugli oggetti in casa, per vedere se funzionavano o meno. Quindi poi andavano in produzione in base anche al test che aveva fatto lui con la mia mamma, gli amici che venivano a trovarci. Quindi in casa non ci sono solo oggetti di Achille, ci sono anche oggetti di altre persone. Io sono un'appassionata di Le Corbusier, sono un'appassionata di Charles Perriano, eccetera, eccetera, di Gio Ponti e molti altri. E soprattutto Munari, con cui ho giocato da piccola senza rendermene conto, mannaggia. Ecco, erano due eterni bambini con cui giocavi e poi dopo da grande dici, caspita, ho giocato con loro e non sono mai stata... Cioè, facevo la cretina, no? E perché no? E vabbè, insomma, belle storie. Infatti. Adesso parliamo un pochino più di design in generale. Quindi, come tutti sappiamo, più o meno il design nasce con l'intento di diventare subito popolare. Poi, secondo te, è riuscito in questo intento? Cioè, adesso il design come viene percepito nella mente delle persone, anche dei tuoi visitatori? Sì, ecco, loro si interrogano sempre sul fatto che, appunto, Castiglioni ha progettato nel 1968 con suo fratello, alla fine della sua vita, Pier Giacomo, progettano un interruttore rompitrata che è entrato nelle case di tutti. Quindi era veramente un oggetto popolare. Come Vico Magistretti ti diceva, mi piacerebbe progettare l'ombrello, così Castiglioni ce la fa a progettare un interruttore che entra nelle case di tutti e che costa ancora oggi pochissimo. È della Relco Group. All'epoca era VLM, insomma, le varie aziende poi l'hanno assorbito. Ma è un oggetto, direi, anonimo che è veramente popolare ancora oggi. È vero che il design dovrebbe essere così. Quindi un altro esempio che il papà portava è un cucchiaio per la maionese del 1962 che ancora oggi è in produzione. Lo comprate solo in fondazione da noi perché noi vi raccontiamo la storia e abbiamo un barattolo sempre vuoto per farvi vedere quanto funzioni bene sia per la maionese Kraft, per cui era nato, ma anche per la Nutella. Quindi noi facciamo sempre vedere quanti oggetti sono stati progettati molto diversi e quanti invece sono ancora in produzione e sono veramente alla portata di tutti. Costa 10 euro un cucchiaio, insomma. Quindi è molto interessante vedere questo. È chiaro che i prezzi poi degli oggetti, ma lui non li decideva, decidevano le aziende, sono cambiati molto. La lampada Arco, ovviamente, dal 1962 ad oggi è un po' cambiata dal punto di vista del prezzo, però ci sono lampade ben più costose oggi. Quindi alla fine la lampadina, che è una lampada del 71, parentesi che ho citato prima, non sono così tanto costose, perché sono fatte veramente di pochi elementi. Quindi alla fine il papà cercava sempre di ridurre al minimo i componenti perché gli oggetti fossero anche facili da vendere, non so come dire, facili da montare, ma facili anche da vendere, perché se costano poco entrano nelle case in molti. Ci capita spesso di avere dei visitatori che arrivano in studio e ci dicono «Ah, anche quella è di Castiglione!» «Ah, non lo sapevo, ce l'ho in casa!» Oppure c'è la mia zia e gliela vado a fregare. Insomma, ecco, queste sono poi le cose che capitano. Quindi, bello, mi piace. Mi piace che il design ancora oggi sia alla portata di tutti. Forse non è più così tanto alla portata di tutti. Però, non so, vediamo. Ci sono molti designer oggi che lavorano bene nella produzione industriale, ragionando passo passo su come viene prodotto un oggetto e con tutte le nuove tecnologie, nuovi materiali. Pensate a quanto si può fare veramente oggi. Il design non è morto assolutamente, anzi c'è tanto da fare ancora oggi. È vero che ci sono molti oggetti che hanno dietro un grande nome, una grande azienda e, ahimè, costano tanto solo perché c'è dietro un grande brand e una firma. Però quello non ci possiamo fare nulla, insomma. Sempre a proposito del design, qual è lo stato dell'arte, del design italiano? Secondo te dove sta andando? Sicuramente noi stiamo andando un po', ci proviamo perlomeno. Io vedo tantissimi stranieri che vengono qui ad assorbire informazioni, idee e giustamente a caricarsi dell'energia positiva che hanno comunque gli italiani perché non c'è niente da fare. La creatività che abbiamo noi è una creatività molto legata alle aziende. Le aziende sono sempre state molto reattive per cui ancora oggi ci sono aziende che producono, producono. Ecco, forse il design italiano ha poi lo svantaggio oggi di andare magari in produzione per un anno, due anni e poi oggetti spariscono, benché si hanno progettati bene e con una bella funzione. Ecco, forse la vita degli oggetti è un po' diminuita adesso rispetto alla vita che avevano questi oggetti progettati non solo da Castiglioni, ma se pensate Magistretti, Zanuso, Sozzas, sono tutte personari che hanno progettato oggetti che sono ancora oggi prodotti. Quindi la domanda è anche come mai questi oggetti sono ancora qui, forse perché erano funzionali e forse perché non sono entrati nella logica di uno stile o di una moda, ecco. E altri oggetti invece nascono oggi per il Salone del Mobile e magari già l'anno prossimo non ci sono più. Peccato. Sì, questo poi è probabilmente anche una tendenza che è un po' ovunque, nella musica. Del consumismo. Eh sì, ma esatto, bravo, anche nella musica, certo, Nicola. Sì, è qualcosa che ormai ha preso tutte le aree dell'arte, anche del design, ovviamente. Diciamoci, l'ultima domanda si legava un pochino a questo, era appunto, visto che noi dettavamo il design italiano, era il design, dettava la linea a livello mondiale, e tuo padre è un grandissimo esempio, come mai poi ha ceduto il passo l'Italia, che adesso magari rimane semplicemente come un nome da mettere lì, il made in Italy, il design italiano, ma in realtà poi l'oggetto in sé non ha più quel valore che aveva 30 anni fa, 40 anni fa. E beh, è arrivato internet, ragazzi, voi che siete figli, oggi noi stiamo comunicando tramite cellulare, riusciamo a portare la nostra voce ovunque. Pensate quanto bella è la nuova tecnologia, questo internet, queste email che arrivano, vanno, e ci collega, no? Collega tutto il mondo, e quanto questo poi a volte diventa un boomerang e porta al fatto di non riflettere a sufficienza, di non prendersi i propri tempi, ed è vero, connetti tutte le culture del mondo e dovremmo fare un po' tesoro di questo, cioè non c'è solo più, non aver paura che il made in Italy c'è, quello c'è, nel senso che la qualità che abbiamo noi nelle nostre aziende c'è, ma c'è anche all'estero, quindi non aver paura di questo, secondo me di mischiarci e di trarre il bello da tutte le culture, perché tutti gli altri, io lo vedo appunto con i tanti visitatori stranieri, abbiamo più di 7 mila l'anno, per cui immaginatevi, io chiacchiero con tantissime persone, le conduco in questo tour molto castiglionesco e loro insegnano e raccontano a noi storie straordinarie dei loro paesi. Io non ho paura di questo, mi piace, perché proprio ci colleghiamo con un mondo che cambia, velocissimo. Ecco, forse dobbiamo solo fermarci un attimo e spegnere questo interruttore di castiglioni, fermarci un secondo, no? Provare a fare click, fermarci un secondo, riflettere, prenderci il nostro tempo e poi andare avanti ancora con, innamorandoci di tutti gli oggetti che ci sono in giro e delle storie che hanno da dire anche gli altri. Bene, grazie mille Alessa, grazie mille Giovanna. Grazie Giovanna, infatti, di essere stata con noi. Grazie a voi. Questo podcast ovviamente lo potete trovare su Spreaker, su iTunes, su Spotify, insomma, ovunque. Grazie ancora, alla prossima intervista su Radio... Grazie a tutti.